Oh! No, 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 no... Non lo so! Non lo so! Se non ero sicuro di provarlo qui secondo voi veniva a casa sua? Ha risposto sì o risposto no? Sì che ha risposto risparmia forza. Cernasli. Cernasli. Facci un po' di migliori. Se te no, se ne puge di caldo. Ne di scans, e ne di shok Karasho. M'ynos esat g 예�. Certo. 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 Vieni da io zuccare. No, JB. Certo. 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 JB si trova il capitano che ci stava prostituta. Ok, vai. No, no, i soldi! I soldi! Sto qua sotto. Sotto al cuscino. Voilà! Interrogatorio più veloce di storia. Quando racconta JB non ci crede. Non male. Ma non credere che spada basti a JB. Gli interessi raddoppiano. Oggi è il tuo giorno di poco affortunato. Oggi è il tuo giorno di poco affortunato. Certo. 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 Vedi? E' che me son rotto le palle di Fasto cinema. Ci ho vogliato un po' di teatro. Qualcosa davanguardia, sperimentale. Spennazzo, sei o non sei un regista? ieri sera ero a teatro ero uno di quei sette paganti e il tuo spettacolo mi è piaciuto tu ci sei fa ed è per questo pensavo basta con queste storielle di oggi un classico Romeo e Giulietta in versione ultramoderna dove l'hai fatta? come dove l'ha fatta? a Romeo e Giulietta piaceva il lecca-lecca la storia tra un transoperato e uno no una cosa commovente, da brividi non l'ha mai visto no cioè te non sai chi è questa e non fai vago che ce lo so che lo sai ecco a voi analita Garibaldi no, no e che si tratta di far favore a un attore salvo e protagonista c'ha la madre che non sta tanto bene con la capoccia non si può allontanare poi testate tutto il parentame se da lo sai come vanno queste cose, no? noi facendo le prove qua naturalmente oltre che fare contento alla mamma potremmo fare contento a me che è lo pazzo io ti do un zonco e chi lo sa forse potrebbero anche dimenticare qualche piccolo fattarello poco piacevole che so che la riguarda romeo romeo perché sei tu romeo benvenuto a bordo vede la compagnia con cui prova Pierpaolo? c'è chi Pierpaolo, no? guarda stiamo aspettando lui per incominciare oggi ancora non si è visto ma non è quello che sostituisco io? sì, te ma che dici? te sei il fratello di Giulietta che c'entri con Mercuzio te? ma scusate ma come per iniziare? ma quindi ieri c'era? no perché non so tre giorni che non ci abbiamo notizie però abbiamo trovato un biglietto con l'indirizzo di qua e infatti noi sono tre giorni che stiamo tutti qui ad aspettare Pierpaolo quasi quasi e ricominciamo, no ragazzi? questo avevo detto io quello stava strano poverino eh piangeva sempre era così sensibile è sensibile non parliamo nel passato lo fa sempre ma lo sapete che vi dico? prese prese